Ancora una diffusione della cultura della salute attraverso questo servizio gratuito organizzato da Croce Rossa italiana e da grandi stazioni delle ferrovie dello Stato. Partono oggi Milano, Roma e Palermo, le prime città d'Italia, per un'esperienza che si diffonderà in tutte le stazioni delle grandi città italiane. È un modo per orgogliare, agevolare, facilitare il controllo attraverso il tampone. È anche un modo per ricordare come sia importante curare le prescrizioni individuali per evitare il dilagare della pandemia. Siamo sulla buona strada, credo che la cura personale per la propria salute da parte di tutti e l'aumento dei vaccini potrà consentirci di uscire da questo terribile tunnel.